Ragazzi oggi testiamo le auto insieme a Cristian, l'ho già fatto da solo l'episodio Allora, prima cosa, andiamo a misurare la grandezza della macchina La mia va perfetta, la tua? Vai, andiamo a vedere La riusciamo a scalare con questa Vedi tu? Ahia, vedi tu? Non è proprio zero problemi Ma tu ha zero problemi, dai andiamo di nuovo a parcheggiarle Andiamo a parcheggiarle Qua 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 Allora andiamo col pick up ora Andiamo a vedere la misura del pick up Oh, il pick up va senza problemi qua Guarda il tuo Ahahah 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 Ciao Vediamo Eh, manco il mio Il tuo sta ballando nel frattempo Vai, che ce la fai? Il tuo ce l'ha fatta Metto un po' però ce l'ha fatta Il tuo ce l'ha fatta, il tuo ce l'ha fatta Perché è già lì? E ora prendiamo i taxi Ora prendiamo i taxi Vado, veicolo, procedito il taxi E' difficile da con il manettino Vediamo No, a me non ti passa solo per la... What? Vai Vai Guarda, è inclinato Vai, vai, dai, andiamo Totti, va il turbo No, 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 non la tuve Vai Le problemi Vabbè, il taxi è modificato, è normale C'è dei pazienti... C'è dei clienti stanno andando di fretta Tu con quella macchina normale che ci vai Così Ora, l'ultimo test è quello delle prevalent Ok Quello delle prevalent Vieni qua Queste Ah, non è l'ultimo test Perché poi stanno sopra altre macchine Oh, 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 la misura Perfetta, la mia, la tua Le mie si inclinano sempre Poi dobbiamo fare un altro video Però viceversa Che le uso io, quelle modificate Ok Vai, la tua, la senza problemi, proprio Secondo me la migliore è la... Ora non sentiamo la migliore Allora, andiamo a parcheggiare queste E scaliamo la cosa Per andare Vai, andiamo a prendere il camion Andiamo a prendere il camion Vai, io prendo questo Guarda, la grandezza del tuo camion con il mio camion Vai, andiamo da là Da là, da là Andiamo da qua Vabbè, è normale Vai, andiamo a vedere No, vediamo la misura Ah, è vero Oh, non ce la fanno Secondo me La tua, il tuo manco scende un poco Ah, beh, la misura Nel prossimo video faremo la misura più grande Ti spingo Hanno vinto Hanno vinto le migliori Sai quali sono? Quelle modificate Porco Però, oltre a questo testo Ce n'è un altro Contro un'altra montagna Stai Ok, tu guida Tu guida il camion No, ci stanno altri testo ma contro una montagna Ok, guida il camion modificato bellissimo No, io guido una macchina modificata Dai, Lamborghini No, guarda cosa si può fare L'abbiamo capovolto Vabbè, dai, dai, dai Contro quell'altra montagna deve andare Vai, misuriamo Ok, perfetto Questa è andata bene Ora, andiamo a vedere questa Senza turbo, vediamo Senza problemi proprio, vado Vabbè, attiviamolo Perché col turbo dal Dal suo limite di Velocità Vero? Vediamo il limite di velocità Madonna Bellissimo Porco pullo Non ce la farei mai Non ce la farei mai Ce l'ho besa Ah, sto cadendo in mare Ah, sto cadendo in mare Sto con le auto posso non stare in mare E poi che... Eh, perché la mia non sta più risalendo? Eh, perché sempre posso sbattare le luci Piano, 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 piano Piano, piano, piano Ragazzi, l'episodio finisce qua Ciao ragazzi